in Brasile, è quello che a noi ci vediamo. Ti potrebbero rompere anche il busso del culo. Noi ne sappiamo la mia stessa parte. Eh, ma voglio, non voglio mica dimenticarmi, eh? Noi ne sappiamo tutto un... No, ma allora perché c'è della gente dei nostri che ci parla? No, perché al governatore va la dai, se vai vicino la favela, te lo fanno come un organetto, capisci? Sì, ma l'inglese se lo so, nudo l'hanno ritrovato. Ecco perché ci vanno con chi si è. Non è che si sono accontentati di levagli e tutto, se lo so pure chi ha appettato. Sai che qua ci vanno più i modenesi da fare le parti. Però guarda che c'è che ci vanno, i modenesi che vanno a perdere il culo, eh, gaspio. Ma in Brasile dove? A governatore va la dai, va la dai. Dove hanno, l'hanno fatto il mondiale. Esatto, vai ma... Allora signori, C'è, guardate il cielo che c'è, guardate il cielo. Quando a te vi non vedete. Noi siamo qui a parlare. Perché io mi so salvare lo salvare, lo salvare, lo mi raccomando. E' il busso del culo. Eh, no. Io faccio, siccome ho l'età, in questi mostri dove devo andare, no? Lì tu attraversi il fiume a l'alteraggio, ci sono i bambini, intanto montarà la buca. Ci sono i... No, guarda, tu diventi vecchio. Per me l'ha già bucato. No, non ha bucato niente. Vuoi scommettere il caffè? No, no, no. Non lo bevo. Tu, lì, gli dai un euro a un bambino. Quello che si ricorda, tutti i giorni che vieni. Tu arrivi, ti fanno assistenza, tutto qua. E poi ci sono, ci sono i giorni. Eh, ma quello che... Vedi, lui l'hai visto, lui è il bombone della situazione. Che poi, intanto, lì è così. Lì non è che c'è la contrattazione quanto vuoi. Ma qui è la cosa bucana. Lì te la prendi. No, no, lì te vengono a cercare loro. C'è anche il belgo da... Comunque anche sto ragazzo lo vengono a cercare, nelle piastole. No, no, no. C'era un incurio tra l'animesi e l'animesi. No, 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 no. Va bene, c'è così, non mangiare. E intanto, mostrarella buca. No, no, no. La siamo portati... No, dov'è mostrarella? Non è che ci è fatto male. No, ma che la portavamo? A manzala. Che un volatore avesse fatto attività sessuale. Sì? C'era il mondiale, no? Eh. Che un volatore, se questi... Avesse fatto attività. Ma volatore vuole? Non è che bisogna scoprare. Vabbè, ma Dio, perché c'è? La mia, non la posso andare a ammappiare qualche cosa. Ma devi andare a trombare. Eh? No, io non sono andato là. Io ho volato. E non hai trombato? No. Allora, io mi è trombato. Ci fai sicuro con la gomma? Io non la vedo. Con la gomma? Già c'ho un problema, no? Poi mi dà la gomma e ti saluto.